Ciao ragazzi e bentornati sul canale di IronManager, oggi siamo ancora qui con Lorenzo Panzini, ciao Lorenzo. Grazie per avermi invitato, ciao Fran. Ciao e bentornato e come avete visto dal titolo oggi parleremo di flexible dieting, ovvero dieta flessibile e i fifizio macros. Avete sentito parlare sicuramente, c'è parecchia confusione anche online fra questi termini, cosa si intende per dieta flessibile, cosa si intende per i fifizio macros, mode se volete o diete o approcci alimentari che provengono tutti dagli Stati Uniti e quindi in questo video abbiamo deciso di fare un attimo di chiarezza anche per fare la distinzione fra i due approcci alimentari e poi alla fine magari del video do anche quella che è la mia esperienza di come appunto mi approccio alla dieta, un approccio che ho sempre detto è un approccio flessibile e sostenibile ma non necessariamente sempre un if you fit your macros. Quindi darei la parola adesso a Lorenzo che ci fa un attimo una carrellata di questi approcci alimentari e ci identifica appunto le distinzioni. Ok, sì allora tempo fa insomma iniziando ad approfondire il concetto di if you fit your macros e flexible dieting mi sono reso conto più o meno che in realtà questi due concetti vanno ad indicare due cose un po' diverse, nel senso che nella maggior parte dei casi potrebbero anche coincidere però in effetti sono scendibili quindi il flexible dieting nasceva più o meno nei primi anni 90, era stato presentato da alcuni ricercatori che proponevano questo nuovo approccio per perdere o mantenere il peso in cui poteva essere prevista una variabilità quindi si diciamo si poneva in contrasto con la rigidità del mantenere delle regole sempre rigide evitare completamente certe categorie di cibo per permettersi una maggiore libertà di scelta magari ecco improvvisare in alcuni giorni potersi concedere qualcosa di più o qualcosa di proibito e magari i giorni dopo ridurre l'apporto calorico, questo poteva avvenire ad esempio anche durante la giornata quindi se magari a pranzo succedeva che si mangiava un po' più del previsto si poteva compensare riducendo un po' l'apporto calorico di sera quindi il flexible dieting o il controllo flessibile, il flexible control lo chiamavano in letteratura indicava praticamente un controllo dell'alimentazione molto più vario che però non prevede per forza un conteggio dei macronutrienti così preciso e il fatto di coprire per forza certi macronutrienti l'infetrizio macros invece nasce nel contesto più del fitness building perché privilegia il controllo dei macronutrienti e le loro proporzioni, il rapporto e quindi di conseguenza l'apporto calorico questo vuol dire che questo approccio alimentare in contrasto col flexible dieting prevede che la persona copra in qualche modo, in un modo o nell'altro i propri macronutrienti giornalieri però quello che viene sottointeso perché si spera che la gente lo capisca è che comunque questa dieta dovrebbe essere coperta per gran parte da cibi genuini, sani e magari per una minima parte da alimenti sporchi o proibiti come prevederebbe un approccio flessibile infatti è interessante anche appunto questa distinzione perché dicevi appunto che il flexible dieting o la dieta flessibile proviene dalla letteratura mentre invece ricordo bene che i fifizio macros proviene dai forum di bodybuilding.com ovvero c'erano queste discussioni, questi thread dove c'era appunto questo bodybuilder che dimostrava che comunque ai ragazzi che se vuoi avevano anche un po' delle paranoie o delle manie sugli alimenti posso mangiare il riso integrale, posso mangiare la banana, posso mangiare lui rispondeva sempre i fifizio macros e da lì ovviamente poi l'estremismo e la generalizzazione nel senso che ah ok, intanto questi sono i miei macros, queste sono le mie calorie posso mangiarmi i Cheerios, le pizze e le donuts tanto insomma sono sempre calorie, sono sempre macros ovviamente facendo un po' di confusione sì, purtroppo poi questo concetto ha portato a delle estremizzazioni quindi a una visione bianco e nero anche qui la gente, soprattutto quelli meno esperti hanno cercato, hanno provato a interpretare questa cosa a proprio vantaggio invece di iniziare a rieducare le proprie abitudini hanno detto vabbè, basta che copro tutti i macronutrienti con quello che capita, anche le cose più sporche e va bene lo stesso e in realtà insomma la cosa è molto più controllata di quello che sembra e va detto poi che insomma il flexible dieting e i fit fit your macros potrebbero essere dei concetti anche completamente diversi perché un approccio flessibile può non prevedere per forza un controllo dei macronutrienti così preciso e quindi diciamo coprire all'incirca un proprio fabbisogno calorico magari mentre un fit fit your macros potrebbe essere paradossalmente addirittura rigido perché uno potrebbe dire seleziono all'interno dei cibi che con sé che mi permetto di consumare sono le categorie pulite e quindi potrei istituire un IAFOM solo selezionando cibi genuini puliti scartando completamente il junk food ecco poi Aragon ha voluto diciamo razionalizzare questo concetto dell'IAFOM introducendo anche il flexible dieting in questo e quindi dicendo seguite le fit your macros però coprendo il 70-80% dell'apporto calorico con cibi puliti, buoni, genuini e il resto con qualche schifezza è consentito esatto e no è interessante ti dico perché dal mio punto di vista mi sono avvicinato al flexible dieting dopo anch'io ovviamente chi va a vedere i miei video passati insomma può vedere insomma sono rimasti là a una dieta veramente da bro rigida a pollo, broccoli e riso e patate ma soprattutto per venire incontro diciamo a quelle che sono anche le mie esigenti lavorative quindi ti dicevo anche primo offline io quando ho cominciato, adesso sembra essere in Matusalemme però non esisteva ancora l'application MyFitnessPal e quindi faccevo tutto con un Excel però non andavo a compilarlo tutti i giorni, tutte le ore, ogni pasto semplicemente sapevo che diciamo stabilivo con il mio allenatore quelli che erano i macros o le calorie per un determinato periodo della preparazione e da lì andavo a vedermi diciamo quelli che erano i macros di alcuni alimenti facevo delle equivalenze, delle comparazioni con alimenti sostitutivi e praticamente mi imparavo la ricetta e da lì andavo avanti per dei mesi fin tanto che si cambiava di nuovo la dieta e andavo a cambiare di nuovo quindi flessibilità da questo punto di vista ma poi anche il discorso che abbiamo fatto nell'ultimo video sul digiuno intermittente ovvero il discorso della non devo diventare matto se non mangio ogni tre ore sono tutti, se vuoi, insegnamenti sia quelli del digiuno intermittente che del flexible dieting che poi riesco ad adattare meglio la mia vita lavorativa perché a volte insomma un meeting o diciamo una visita da un cliente o un viaggio di lavoro e allora se uno dovesse stare a quelle che sono le regole che poi non sono neanche basate sulla scienza del bodybuilding classico avrebbe veramente delle difficoltà a seguire una dieta sì, una cosa che bisogna precisare degli approcci Fit Fit Your Macros è che pur promuovendo il controllo e il coprire le grammature dei macronutrienti quindi chiaramente non invitano a rimanere così rigidi sul coprire in maniera così precisa le grammature quindi anche se un giorno vado un po' oltre il mio mantenimento per dire ad esempio non succede niente se poi sul lungo periodo mantengo più o meno un equilibrio nell'apporto calorico quindi anche qui bisogna saper interpretare e cercare di mantenere più che altro un apporto calorico costante nel tempo ma non così preciso come la gente potrebbe pensare esatto, esatto infatti c'è anche insomma il discorso poi della flessibilità ma anche della sostenibilità il fatto che dicevamo prima appunto della frequenza dei pasti del fatto di non conteggiare i macro soprattutto se uno non deve prepararsi per una gara o deve salire su un palco di gara nelle prossime settimane insomma calcolare al grammo la quantità di alimenti non è assolutamente necessario sì diciamo che conta comunque il grande schema e quindi nel complesso più o meno uno copre le proprie grammature ma non è che se mangia 10 grammi di proteina in più o in meno o 5 grammi di grassi in più o in meno cambia qualcosa chiaramente è tutto un circa che però offrendo delle linee guida delle linee di riferimento riesce a offrire più controllo più consapevolezza insomma delle quantità e dell'alimentazione in generale sì infatti il nostro corpo non ragiona sicuramente a giorni, a ore o a pasti ma appunto ragiona sempre sul lungo termine ed è per questo che appunto come dicevo prima dieta flessibile anche in questo cioè non divento umato non ho paura del catabolismo o di ingrassare se magari una volta mangio di più perché poi insomma mi autoregolo poi le volte successive tranquillamente ok una cosa che avevo spiegato nel mio articolo era che l'e-fit-fiction macros può variare il suo grado di rigidità o flessibilità in base al periodo a cui un atleta che sta seguendo un atleta quindi se si fa un periodo di off season in cui un atleta insomma può permettersi di una maggiore libertà nell'alimentazione può seguire un approccio flessibile il fit-fiction macros molto più libero mentre non si esclude che in un periodo di gara un atleta possa comunque rispettare il fit-fiction macros selezionando una grande varietà di cibi però limitare sempre di più insomma i cibi che in realtà comprometterebbero la forma ideale della gara quindi anche qua l'if-fiction macros può essere più o meno flessibile in base alle esigenze al periodo e a tanti altri fattori per questo poi dico che flexible e IAOIM sono in realtà due cose che andrebbero separate sì, no, sono d'accordo sono d'accordo, assolutamente e tu al momento stai seguendo un approccio flessibile alla dieta anche tu? eh, assolutamente purtroppo, un po' troppo nel senso che poi quando ti dai una possibilità di prendere, di mangiare qualcosa di proibito poi si tende all'abuso quindi noto anche questo che è una cosa che vada affinata un po' nel tempo quindi riuscire a mantenere comunque un equilibrio tra cibo genuino che comunque è alla base della mia dieta però riuscire a controllare anche quel qualcosa in più quel proibito che in realtà dovrebbe essere molto controllato però sicuramente anch'io e mi sta dando tante soddisfazioni anche questo approccio qui a livello psicologico dopo tanti anni in cui seguivo un'alimentazione molto rigida e quindi per forza di cose a un certo punto sbroccavo e andavo a farmi le abbuffate ora la cosa è un po' più gestibile quindi sono in pace con me stesso ecco se mi concedo anche qualche snack che non andrebbe mangiato certo mi ricordo anche tipo degli aneddoti con mio fratello anche io io ero presente uno che faceva merenda con un pollo allo spiedo intero e quindi prendete proprio low carbs completamente durante l'estate in particolare perché era ovviamente il periodo della definizione i carboidrati erano malefici e poi dopo invece mi ricordo tipo a settembre ho finito l'estate che alla sera andavamo nei forni e a volte andavo anche in macchina da solo pretendendo di essere in macchina con un gruppo di amici e mi prendevo tipo un cabaret da 20 paste e le sbranavo perché ovviamente insomma le crisi famelliche da low carbs protratta o da alimentazione è completamente estrema quindi è proprio quello il discorso della sostenibilità che so che a me fa molto sia per insomma la flessibilità e poi un approccio scientifico se vuoi o più più educato più informato all'alimentazione ma poi anche proprio a livello psicologico cioè tu soprattutto se non vai in gara non devi fare delle diete estreme e quindi te la vivi molto meglio e ti focalizzi sugli allenamenti ecco sì il bello è che comunque il flexible dieting è qualcosa di collaudato e di di trattato in letteratura da quasi 25 anni quindi è una cosa che in realtà non si sa però questi approcci alimentari che prevedono anche la variabilità magari della la compensazione addirittura che magari la nutrizione classica per come la gente sente dire non è va contro a questi principi è quello magari di proprio pianificare una compensazione quindi magari si prevede sì la buffata quando veramente sentiamo il bisogno purché poi si compensi successivamente sia l'apporto calorico che magari la qualità dei cibi eccetera da un giorno all'altro anche nell'arco della stessa giornata quindi è quello di magari evitare di mangiare troppe calorie di sera il flexible dieting in realtà potrebbe prevedere anche qualcosa del genere quindi magari sto molto basso di calorie nella prima parte della giornata per poi concedermi che ne so visto che una cena è importante concedermi un pasto importante di sera ecco esatto infatti per quello ti dicevo che è molto linkato c'è molta correlazione anche con l'altro video che abbiamo fatto sul digiuno intermittente o dei periodi di semidigiuno e poi vai a concentrare invece in una particolare periodo della giornata la maggior parte dei tuoi macros quindi assolutamente sì esatto i conti torano fortunatamente insomma internet offre degli spunti anche costruttivi oltre che disinformazione possiamo estrapolare anche qualcosa di veramente utile che può prevenire anche i comuni disturbi alimentari che insomma colpiscono anche la popolazione dei bodybuild perché insomma abituati a una certa alimentazione ovvio che si vada incontro a problemi di questo tipo assolutamente infatti l'ultima domanda che insomma mi è venuta in mente così mentre parlavamo che volevo farti era come rispondi tu alla classica eh sì ma la dieta flessibile nessuno né degli Olimpia segue la dieta flessibile e guarda Coleman Coleman era enorme e mangiava sempre le stesse cose te come rispondi a una domanda del genere e a dire il vero non so se veramente un Coleman chiunque abbia vinto un titolo importante abbia per forza seguito delle diete rigide so che la dieta rigida è comunque un percorso che credo che gli atleti di bodybuilding debbano provare per lo meno per sapere cosa vuol dire per sapere cosa vuol dire la disciplina perché comunque la disciplina è importante nel periodo di gara bisogna avere una certa disciplina e quindi questi approcci flessibili vengono messi da parte per forza però bisogna diciamo anche evitare di fare del bianco e nero quindi non è che se in un periodo di gara sono molto disciplinato allora questa disciplina debba essere rispettata tutto l'anno perché chiaramente poi sul lungo periodo questa cosa porta dei disturbi quindi non so se insomma i campioni adottino meno questi approcci io credo che comunque ci siano sia una parte dei campioni che li adotti però l'invito è quello di diciamo applicare un approccio razionale all'alimentazione quindi va bene la rigidità va bene per un certo periodo perché è necessario una persona che si prepara per una gara per due o tre mesi deve saper tenere un ritmo un regime molto rigido anche molto rigido però chiaramente per il resto dell'anno gli approcci flessibili servono a prevenire insomma i disturbi alimentari quindi le abbuffate l'ortoressia molto comune e la bulimia eventuale insomma che si presentano molto spesso se uno segue tutto l'anno ma infatti è proprio per quello ti dicevo secondo me è importante avere un approccio flessibile soprattutto nella fase di costruzione muscolare o di massa quando se vuoi è meno importante proprio perché sai che se sei un atleta agonista quei due tre quattro mesi di preparazione avrai una flessibilità molto più limitata o comunque dovrai seguire una dieta più rigida e quindi perché rovinarsi o comunque seguire un approccio rigido e militare per tutto l'anno quando invece puoi diciamo gradualmente arrivare a limitare la tua flessibilità proprio nel periodo clou di preparazione e poi ovviamente sappiamo che nel mese prima della gara invece andremo a fare una reverse dieting e delle due quasi a tornare a una dieta diciamo confortevole o comunque ritornare ai macros di mantenimento addirittura in surplus io ti ricordo mi ricordo solamente un episodio di un video di Cutler che insomma non stava parlando del cheat meal stava proprio parlando del discorso di ogni tanto mi concedo qualcosa e appunto mi veniva in mente quello che hai detto te prima nel video il discorso di quando fare o quando fermarsi con gli alimenti buoni o considerati sporchi sappiamo che ovviamente questa distinzione è veramente molto soggettiva però lui diceva che di solito lui andava a ghiotto penso ancora adesso di hamburger e quindi lui faceva tutti i suoi pasti quei 9-10 pasti normali durante la giornata poi alla sera poco prima di andare a letto si sparava praticamente il cheeseburger triplo quadruplo perché bene o male non andava così a rovinare la digestione dei pasti successivi perché sai quando mangi quelle cose lì poi ti viene anche meno fame poi di mangiare tutto il resto andava a letto dormiva si rialzava magari saltava la colazione come abbiamo parlato nel video del digiuno intermittente poi riprendeva normalmente sì quindi insomma ci può ritrovare insomma un approccio flessibile anche tra gli atleti probabilmente c'è qualcuno che cerca di applicare questa cosa l'importante credo che sia proprio sottolineare come l'infitfitzio macros vada un po' distinto dal flexible dieting e quindi per assurdo una preparazione per una gara può prevedere il totale il totale eliminazione dei cibi spazzatura però riuscire comunque a rispettare un ifitfitzio macros pulito tra virgolette e quindi riuscire anche a dare ad essere comunque flessibili a variare molto i cibi quindi evitare di rimanere sempre su quei soliti cinque cibi che poi stufano a un certo punto quindi anche anche nel contesto della rigidità ifitfitzio macros può aiutare a livello psicologico probabilmente perfetto benissimo direi che insomma abbiamo coperto questa topic molto bene poi ovviamente chiederemo ai ragazzi anche se ci sono ulteriori domande però per il momento ti ringrazio ancora Lorenzo e poi ci vediamo alla prossima puntata ti ringrazio Fran grazie ci vediamo ciao ciao ciao